Il parcheggio di Porta Leoni continua a far discutere all'Aquila. 12.000 euro nei primi 80 giorni di apertura come incasso. La denuncia arriva dai due consiglieri di opposizione, Paolo Romano e Lorenzo Rotellini. Una media quindi di 6 auto in sosta al giorno per tutto il giorno. 6 posti in un parcheggio da 90 posti autocomplessive, che è costato 1,5 milioni di euro e che ha visto il quasi raddoppio dei costi riguardo la permuta con l'Ater, da 7 milioni a 11 milioni di euro sostengono. Da tempo si parla del costo troppo elevato, evidentemente è questo che non incentiva l'uso perché la posizione centrale del parcheggio in realtà è comoda. Noi come opposizione abbiamo proposto da subito una riduzione tariffaria, una riduzione che possa essere adeguata al nostro territorio, adeguato al centro storico e che possa dare anche un beneficio realmente ai commercianti. Purtroppo questa proposta è stata consegnata al Consiglio Comunale ma ancora non riesce ad approdare nell'aula consigliare, speriamo che possa farlo presto. Però dall'accertamento delle entrate di Porta Leoni si vede un po' quello che è il metodo di questa amministrazione. Un'amministrazione molto dedita agli annunci, poco alla concretezza, perché Porta Leoni non riesce a portare i benefici che i commercianti si aspettavano. Accanto a tutto questo i consiglieri si chiedono pure che abbiano fatto i tre piccoli parcheggi previsti a San Silvestro, al Castello e nella parte alta di Via Roma. Per loro peraltro non è neanche imminente la realizzazione del parcheggio a Lexinam perché ancora non viene sottoscritto di fatto l'accordo con l'Asla per la permuta. Gli atti parlano da sé e dicono quella che è la realtà, che è una città che non ha i servizi. Abbiamo un centro storico che è priva di quei servizi essenziali che servirebbero ad un centro storico. Non lo dice solo l'opposizione, lo dicono i commercianti che richiedono costantemente riunioni urgenti all'amministrazione, che fanno raccolte firme, che chiedono consigli straordinari. Io non capisco che cosa si vuole. Si vuole veramente la morte del centro storico, la morte del commercio del centro storico cittadino?